Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo sulle zone interessate da pioggia e neve in Italia domani, lunedì 24 aprile 2023, precisamente a partire dalle prime ore dell'alba prima di entrare nei dettagli. Non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video e di condividerlo per beneficiare ed evitare improvvisi temporali se, come vi avevamo precedentemente confermato, pioggia e neve torneranno in tutte le regioni del nord e centro Italia, a partire dalle prime ore dell'alba e della mattinata di domani, lunedì, accompagnati da temporali forti e abbondanti nevicate, soprattutto all'estremo nord. Le zone interessate quindi dalle piogge di domani, lunedì, sono tutte Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Trento Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Abruzzo Lazio Molise Campania Puglia Per quanto riguarda la neve, sarà presente solo all'estremo nord, precisamente al nord-est, e usate sempre ogni prudenza e prudenza, e che possiate essere in buona salute.